Ricordati di cliccare su Mi piace, iscriviti e attiva la campanella. La notizia shock della morte dell'adolescente arriva dopo un altro decesso, avvenuto in Argentina, all'inizio dell'anno, quando una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata folgorata, mentre toccava il suo telefono in carica. Questa volta, la giovane ragazza è morta folgorata dopo aver acceso la televisione. Ma com'è potuto succedere? Ecco come sono andati i fatti. La giovane ragazza di solo 13 anni si trovava sotto la doccia e si stava rilassando, dopo una lunga giornata passata tra scuola e compiti in casa. Una volta terminata la doccia rigenerante, ha preso un asciugamano e dirigendosi verso la TV, ha premuto il tasto di accensione. Nel farlo non si era accorta di avere ancora dell'acqua sulle mani e il suo corpo è stato attraversato da una fortissima scossa fatale. Come è potuto accadere? La TV è raguasta. Può capitare anche con una TV perfettamente funzionante? Vediamo cosa è emerso dalle indagini. La ragazza, soccorsa dai suoi familiari, è stata portata all'ospedale, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima indagine, la TV avrebbe avuto un cablaggio difettoso che canalizzava l'elettricità attraverso il suo telaio, quindi quando la ragazza l'ha toccata con le mani ancora umide, ha preso una forte scossa. Non è però ancora chiaro se la tredicenne sia morta toccando la televisione oppure l'antenna. La giovane si chiamava Jorani Ravik Suarez Rodriguez e il fatto è avvenuto a Timon, in Brasile. Per restare aggiornato iscriviti al canale e attiva la campanella.